E vengono fuori anche altri casi o meglio c'è un fenomeno che preoccupa che è quello delle persone che pur essendo positive escono di casa e vanno in giro come è accaduto a Miglianico dove un anziano è stato però sorpreso dai carabinieri e multato. Questa ed altre notizie sono anche sulle pagine social di Reteotto oltre che sul sito reteotto.it ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei che sta seguendo su più fronti le vicende e tutto ciò che ruota intorno all'emergenza Covid in Abruzzo. Buon pomeriggio Luca, per quanto riguarda questa notizia come stanno commentando e cosa sta suscitando sui social? Intanto Gigliola non ha sorpreso una volta ma uno, due, tre, ben quattro volte in appena, anzi scusate tre volte in appena quattro giorni. L'uomo 69 anni di Miglianico era in quarantena perché ovviamente per ragioni legate alla Covid ma comunque non è riuscito a rinunciare alla passeggiatina nel paese ed è stato appunto beccato per ben tre volte dalle forze dell'ordine che lo hanno multato per tre volte complessivamente per una somma di 2.000 euro. Ovviamente commenti Gigliola tra l'ironico e non solo su questa notizia che certamente incuriosisce. Però io ecco Gigliola coglierei ancora una volta l'occasione per invitare tutti i nostri amici di Facebook a commenti educati e civili perché purtroppo dobbiamo riscontrare ancora una volta la predominanza di certi commenti da parte dei cosiddetti haters che certamente non li qualificano per quelli che sono ovvero dei grandi maleducati e nulla più. Per cui date sfoggio alla vostra ironia per notizie anche come questa ma soprattutto cercate di mantenere l'educazione che è sempre molto importante anche in una piazza virtuale come quella di Facebook. È tutto Gigliola a te. Grazie Luca Pompeio. Io aggiungo che gli insulti sono in alcuni casi anzi più delle volte perseguibili quindi rischiano delle denunce. Coloro che scrivono delle frasi, degli insulti incitano all'odio e nei giorni scorsi lo hanno fatto anche nei confronti del Presidente della Repubblica Mattarella dopo il suo discorso di fine anno e ricordo a tutti coloro che ci seguono che in quel caso si procede d'ufficio e si rischia il carcere con questa notizia che va a beneficio di tutti coloro che navigano su internet e lo fanno in maniera educata chi invece non lo fa corre anche dei rischi. Buon lavoro Luca. Poi continuiamo a seguire i social di Reteotto perché nel pomeriggio ci saranno gli aggiornamenti sui dati riguardanti i contagi perché il report dell'assessorato regionale alla sanità verrà pubblicato nel pomeriggio o anche tra poco. Vi terremo aggiornati.